Ciao a tutti quanti, mi trovo a Florida, nella discoteca più famosa di età di Brescia, se voi sapete, adesso è chiusa, ma guardate che meraviglia ragazzi! Wow, wow, qua si balla ragazzi! Questa è un'altra sala! Particamente questa discoteca ha un sacco di sale ed è immensa, ogni sala ha un diverso tipo di musica, adesso non so quale tipo di musica andremo in che sala, però è uno spettacolo ragazzi! E' un peccato che questo evento sarà solo oggi, in generale questa discoteca purtroppo è chiusa, ma è veramente bella! Fedi, Fedi, hai sbagliato il gruppo! Fedi, mi ha parlato il gruppo! Fedi, hai sbagliato il gruppo, è una spettacolo ragazzi, non so quegliamo le ragine a tutti! La scelta è la scelta, la scelta è la scelta! E' una spetta, questa scelta è una spettacolo! video e ci vediamo alla prossima ai